I campi coltivati erano stati disastrati perché c'era il pascolo selvaggio dei cavalli, molti dei quali morivano per la digestione di mais. Difatti, nelle due battaglie decisive, quella della sostizia e poi quella della battaglia, spesso si trovavano con carenza di cavalli per trainare i cannoni, che tra l'altro avevano anche le cani usurate per lo più, quindi anche le giovani a gas non funzionavano più molto, e perciò è chiaro che le battaglie poi avranno un esito scontato. I bambini sono sempre lì attaccati ai soldati che distribuiscono il lancio e qualche volta vengono condentati e riescono a ricevere un mestolo di minestra, qualche altra volta si prendono un calcio sul sedere e devono tornare a casa a stomaco vuoto, quindi succede anche questo. Donna Colloni, vi ricordate che aveva il problema di mantenere 800 adulti più 300 ragazzi, e allora... e allora... Grazie.